Femminicidio questa notte a Mazzara del Vallo in provincia di Trapani. Una donna, Rosaria Garofalo, di 54 anni, è stata uccisa all'interno della sua abitazione in Via Calipso, dove viveva insieme al marito Marcello Vincenzo Frasillo, di 53 anni. L'uomo, disoccupato e con precedenti per maltrattamenti in famiglia e minacce nei loro confronti, nella serata di ieri aveva chiamato i medici del 118 segnalando il decesso della moglie, anche essa disoccupata. Il corpo della donna è stato trovato un riverso sul loro letto e presentava gravi segni di percosse su tutto il corpo. L'uomo condotto in commissariato per tutta la notte è stato sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo difensore. Il sopralluogo della polizia scientifica e l'ispezione del cadavere eseguita dal medico legale hanno confermato che Frasillo ha più volte picchiato la donna negli ultimi tre giorni senza prestare alcuna assistenza o richiedere le necessarie cure mediche. La Garofalo in passato aveva vissuto anche in una comunità per donne in stato di disagio. Diverse le denunce da parte della 54enne nei confronti del marito. L'ultima era avvenuta nel mese di aprile 2019, tranne poi essere volontariamente ritirata nel mese di giugno. La violenza del marito si è scatenata molto probabilmente per l'ossessione di essere tradito dalla donna. Il Frasillo è stato condotto nel carcere di Trapani.